Forum PA ha da sempre nel suo DNA questa propensione all'adattamento, a cercare di interpretare quelle che sono le esigenze, i processi all'interno e all'esterno di questo corpaccione che sono le nostre pubbliche amministrazioni. E quindi questa necessità di adattarsi a bisogni sempre nuovi e emergenti è stata anche in qualche modo accompagnata dalle diverse sedi che si sono alternate in questi anni. La storia comincia 32 anni fa, la prima edizione alla vecchia fiera della Cristoforo Colombo, la vecchia fiera cittadina della città di Roma e poi si è evoluta nel tempo. Quella prima manifestazione, quei primi anni erano quegli anni in cui attraverso Forum PA la pubblica amministrazione si apriva ai cittadini e quindi era l'occasione per vedere cosa ci fosse dentro a volte questa scatola chiusa che sono le nostre istituzioni. Poi le cose sono cambiate, sono cambiate perché è arrivata l'inter, è arrivata la possibilità per la pubblica amministrazione di comunicare direttamente con i cittadini e quindi sono cambiate le cose. E' cambiata anche appunto la forma della manifestazione che dalla vecchia fiera si è trasferita a quella che era la nuova fiera di Roma e quindi sulla Cristoforo Colombo. Spazi più ampi, padiglioni grandissimi, anche maggiore distanza dalla città e poi sempre nel seguire quelle che sono appunto le esigenze del dibattito, dei processi dentro e fuori la PA siamo tornati più verso la città perché? Perché avevamo bisogno di spazi più ampi per, non per esporre, e lì quindi la trasformazione, ma soprattutto avevamo bisogno di spazi per approfondire, quindi sale workshop, sale convegni, sale seminari eccetera. Quindi dalla nuova fiera al Palazzo dei Congressi. E dal Palazzo dei Congressi, dal vecchio Palazzo dei Congressi, a quella che è chiamata la nuvola, il passo è stato breve. E quindi siamo andati in quello che viene chiamato appunto la nuvola, era il 2019, era la trentesima edizione della manifestazione e abbiamo trovato nella Convention Center la nostra massima espressione. Se queste sono brevemente così la sintesi di 32 anni di storia, poi è arrivato il 2020 e sappiamo tutti cosa è successo. E' successo che è arrivato l'imprevisto, l'imprevedibile, o meglio il prevedibile ma inaspettato. E su questo Forumpia però non si è arreso, non ci siamo fermati. Su questo vi cito quella bella frase di Einstein che era Lettera sulle crisi. Einstein diceva, è nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Ecco, abbiamo cambiato repentinamente immagine. Erano anni ormai che sperimentavamo nuovi linguaggi, nuovi modi anche di avvicinarci ai cittadini e quindi erano anni che ormai sperimentavamo anche il linguaggio del digitale, dello streaming, ma il 2020 c'è stato appunto lo switch off. La manifestazione, quella manifestazione fatta di, in ultima edizione, 18 mila persone è stata veicolata attraverso appunto i nostri canali. Abbiamo sconvolti i nostri uffici trasformandoli appunto da uffici in sedi operative e sedi di trasmissione. Una manifestazione che devo dire è andata benissimo. Adesso cosa ci aspetta per il 2021? Ve lo facciamo vedere proprio con l'aiuto della regia. Ci troviamo in questo momento in uno degli studi televisivi presso il Salone delle Fontani in Roma e da cui trasmetteremo appunto l'edizione 2021. Quindi, come si può vedere, nuove attrezzature tecnologiche all'avanguardia, nuovi formati, nuove squadre di lavoro, un restyling completo, un nuovo look. E quindi è con questa squadra, con questo approccio, con questa voglia, come al solito, di adattarci a quelle che sono le esigenze di tutti voi, andiamo avanti. Naturalmente l'occhio è rivolto al futuro e sapendo che, come tutti ciò spieghiamo, torneremo, torneremo a rivederci, torneremo a fare eventi in presenza, però sapendo che non tornerà tutto come prima. Cioè l'esperienza che stiamo portando avanti con il digitale ci fa prefigurare che le prossime edizioni saranno edizioni ibride, dove la relazionalità, lo stare insieme, sarà potenziato dalla capacità delle nuove tecnologie di allungare le reti e di portare qui da noi anche appunto esperienze, pensatori, approfondimenti di altri territori, di altre culture, di altri paesi. Ne parliamo ovviamente quest'anno al nostro forum PA di quello che è il futuro ibrido. Ci vediamo su questi schermi dal 21 al 25 giugno. Grazie.